Si chiamano negoziatori e sono qui carabinieri che hanno il compito di trattare con sequestratori, attentatori o terroristi. Se qualcuno prende in ostaggio familiari o semplici clienti di una banca di un locale o minaccia di farsi saltare in aria nel proprio appartamento, ecco che entrano in azione queste figure, pronte ad ascoltare il malvivente, ma anche a suggerire agli ufficiali presenti sul posto la strategia migliore per evitare vittime o feriti. Ebbene, per la prima volta in Italia ci sarà anche l'Università di Padova con i suoi docenti di psicologia a formare queste figure. Il negoziatore è una persona che è formata, ma dall'altra parte c'è sempre un uomo o una donna che non conosciamo. Per cui il negoziatore deve innanzitutto porsi in ascolto, ma riuscire anche a prevedere il comportamento dell'essere umano che si trova dall'altra parte. E proprio l'Università negli anni 30 inventò la prima macchina della verità, quindi da tempo la ricerca viaggia al fianco delle forze dell'ordine, anche appoggiandosi alla tecnologia. Nell'ambito del Dipartimento abbiamo una parte che proprio tende a studiare meccanismi facendo riferimento alla cosiddetta realtà virtuale, quindi simulando situazioni. I carabinieri negoziatori, uno o due per provincia, devono essere pronti a cambiare strategia durante la trattativa, ad ascoltare e a decidere in poco tempo e sotto stress e sono nati per agire nell'ambito del terrorismo. La minaccia terroristica attuale è un po' diversa perché ultimamente vediamo che il terrorista non è disposto molto a negoziare, ma tende solo a creare il maggior danno improvvisamente. Quindi c'è poco tempo, però noi siamo pronti sia per questo tipo di emergenza, sia eventualmente per la minaccia terroristica più classica che prevedeva il sequestro di soggetti inermi.